Voce per scrivere un cartone di moda, vediamo sempre dato dalla giuria, leggiamo i nomi veloci, 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 via, via, via Nani Baldini, Cattivissimo Me Luigi Ferraro Pinguini di Madagascar Stefano Mondini, Animals United Alessandro Quarta, Tutto Reality Roberto Pedicini, Megamind Davide Perino, The Cleveland Show The winner is... Nani Baldini Ma invece per una volta ce li ha fregati Sì, quest'anno Nani vince ogni anno e ogni anno ci dà forfè Ma quest'anno vi ha voluto fare un regalo Quindi agevoliamo il filmato per quanto riguarda Nani Ciao a tutti Sono Nani Baldini So quello che state pensando, come al solito Nani è timido, non vorrei mai ritirare il premio Io quest'anno volevo venire Solo che purtroppo c'è stato un incidente Che è successo che mia figlia Elisa l'altro giorno è venuta per chiesto Papà, 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 giochiamo, mi fai ciuchino di sclecchia Mi sono girato, c'aveva in mano questo pupazzo di ciuchino bellissimo E non ho saputo dirle di no Poi è venuta Beatrice, l'altra bambina Mi ha detto, papà, 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 giochiamo, mi fai scupitù E in mano c'era un camionone di pezza bellissimo E non ho saputo dirle di no E dopo poco sono avute tutte e due E mi hanno detto, papà, 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 ci fai nuovo torcia? E una ce l'aveva accettino in mano, l'altra una danica di benzina E proprio non ho fatto in tempo a dire di no Baldini Quante volte le devo dire di non sedersi così? Le fa male E poi non si agita perché E' un'altra bambina Comunque mi trattano bene le tempi la rialza L'ho avvertita Lei sta scherzando col fuoco Vabbè, comunque Sono felicissimo di aver ricevuto questo premio E anzi, io vorrei promettervi Che magari l'anno prossimo Forse riesco anche a venire A meno che le bambine non mi chiedano di fare L'obbine di Harry Potter Quello ha fatto una financia C'è da 100 Vabbè, ma allora fai i comici E qui si facevano infermieri Perché così non si è complicato a lavorare E questo era Nanni Baldini naturalmente era un gioco Nanni Nessun doppiatore è stato maltrattato Per questi filmati La targa c'è Ma è utile portarla Tanto la dovrei prendere io per lui E Nanni non sono Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti